Questa uscita di Berlusconi che dice, beh, Zaia sarebbe il candidato ottimale se io non potessi tornare in campo, dice Berlusconi. Io non lo commento neanche perché mi sembra veramente assurdo pensare in una coalizione tutt'assieme il candidato Berlusconi. Per il resto ha risposto molto bene Zaia. La cosa che fa sorridere è che Berlusconi si vede che per cercare qualcuno, comunque, che sia un buon politico con una leadership, debba venire a pescare sempre in Lega. Si vede che non ha cresciuto nessuno comunque dentro il suo partito, perché di solito uno propone una persona del suo partito, non va a proporre persone degli altri. Sa, ci sono molti retroscena sui giornali, su uno di questi oggi si leggeva che Berlusconi sta facendo un'opera, lavorando ai fianchi, anche a livello parlamentare, perché lui Salvini proprio non lo vuole vedere a capo della coalizione di centrodestra che verrà. A scegliere non è che sarà Berlusconi, saranno i cittadini e speriamo con delle primarie, perché deve essere la gente a scegliere chi è candidato leader.